Io ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana, sto tremando di gioia. Io e te, moglie, siamo alleati. Tu madre e padre, io padre e madre. La tenerezza e la durezza sono intorno a nostro figlio da tutte le parti. La Germania di Bonn, accidenti. Non è mica la Germania di Hitler. Si fabbricano lane, formaggi, birre e bottoni. Quella dei cannoni è un'industria d'esportazione. Alla salute degli ebrei, dunque, signor Klotz. Alla salute dei maiali, signor Herr Hitz. Infatti, 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 c'è un momento in cui la mia abiezione di maiale, col ventre capace di contenere un'intera classe sociale, attraverso il rimpianto del passato si purifica. Ed è lì che io ho torto. Invece, 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 c'è un momento in cui la sua abiezione di maiale, attraverso l'idea del futuro, si fa ancora più cinica. Ed è lì che lei ha ragione. E allora, Giulia, cosa aspetta ingrassare come un maiale? Oppure cosa aspetta dare del maiale a me? Eccoci arrivati al momento in cui nessun tribunale potrà mai dire se in lei parla la ferocia o la pietà. Interrogata ben bene la nostra coscienza, abbiamo stabilito di divorarti a causa della tua disobbedienza.